Vi porto in viaggio con me per conoscere le città e i paesi più belli d'Italia. La mia amica Elisa ci presenta Sermide. Sono davanti alla cattedrale per iniziare il nostro giro per Sermide. Io vado sempre in bicicletta, seguitemi, andiamo sulla riva del Po. Siamo nelle terre di Matigio di Canossa. Questa è la chiesa di Santa Maria Assunta del XII secolo. Adesso ho una sorpresa per voi. Ecco la sorpresa, vi farò fare un giro in barca sul Po. Ciao Michael, dove ci porti? Ciao, adesso andiamo al Parco del Grucciore a vedere dove nidificano gli uccelli. Andiamo! Mi hai detto che fai guardia pesca, ma ci sono tanti pesci nel Po? Sì, adesso grazie alla diminuzione dell'inquinamento abbiamo un notevole incremento della fauna ittica. Principalmente nel fiume Po ci sono carpe, siluri, lucioperca. In questo periodo stanno salendo dal mare anche diversi tipi di pesci come i cefali, le cheppie. Abbiamo anche di nuovo visto le anguille, fortunatamente. Grazie Michael e grazie per il lavoro che fai per difendere il nostro fiume. Grazie a voi! Ci vediamo presto per visitare un'altra città. Ah, dimenticavo! Mettete un like su In Viaggio con Alice.